Beh, un'azienda per duplicare, triplicare o più la sua market cap ha bisogno di tutta una serie di fattori, ossia di un miglioramento, di una valutazione rispetto al suo valore, di magari un nuovo prodotto immesso sul mercato, di un miglioramento della sua situazione fondamentale, del miglioramento della sua situazione tecnica anche da un punto di vista grafico, oppure di un semplice, semplicissimo meme, di un semplice, semplicissimo tweet. L'importante è che a farlo sia la persona giusta. Questo è quello che è accaduto con GameStop, ma non solo, anche con AMC e molte altre azioni, nel momento in cui Roaring Kitty, ossia Kate Gill, è riapparso sui nostri schermi dopo quasi tre anni di assenza. Di che sto parlando? Sto parlando del portabandiera del movimento delle meme stock nel 2021, ossia colui che ha portato all'attenzione di tutti GameStop come potenziale azione candidata ad un mega, iper gigantesco, short squeeze, e sulla quale poi si è creata tutta la narrativa del noi contro loro, ossia dei retail contro i banchieri, i fondi, le banche, le istituzioni cattive, short seller, che vanno ad affossare le aziende americane per mettersi soldi in tasca. Questa cosa ha fatto una presa pazzesca sul pubblico e in tantissimi hanno seguito a Kate Gill attraverso Wall Street Bets, si è creata la mania delle meme stock e ovviamente tutte queste azioni che venivano messe all'interno di questo paniere di meme stock iniziavano a esplodere letteralmente, correvano in modo importantissimo e questa cosa ha causato delle perdite gigantesche a dei fondi, quindi per la prima volta ha spostato il paradigma e quello che ne è successo è qualcosa di impressionante. Ti consiglio di approfondire questa tematica, ne ho fatto anche un video a proposito qui nel canale, cercalo perché è molto interessante. Comunque dopo tre anni quasi, di punto in bianco, Kate Gill, Rolling Kitty, se ne esce con un semplice tweet, un tweet che non significa nulla. Di botto, non appena lui twitta, immediatamente tutte le meme stock iniziano a correre e per me si apre il paradiso. Devi sapere che quel periodo lì, il 2020, ma il 2021, è stato uno dei periodi migliori per le mie performance come trader. Perché? Perché c'era tantissimo, tantissimo, tantissimo denaro non educato, persone che si buttavano nel trading, sui mercati, perché seguivano le meme stock, per farti capire, che letteralmente ti tiravano soldi addosso, ti regalavano soldi, c'era liquidità infinita e per chi sapeva cosa fare ovviamente era una manna dal cielo. Questa cosa in una scala più piccola comunque si è ripresentata da inizio settimana, di questa settimana, lunedì ad oggi, a ieri, in realtà ho capitalizzato delle occasioni fantastiche che ora vedremo su GameStop, AMC, ma anche molte altre, andando a sfruttare la scarsa preparazione dei partecipanti al mercato nuovi freschi, la nuova carne da macello che stava arrivando. Quindi ricapitolando, per andare a crearti un po' una scaletta temporale, Rory Kitty va a fare un post, a scrivere un post, dal nulla, così se ne esce con questa immagine. Questa immagine causa subito un'attenzione enorme andare verso GameStop, AMC, tutte le meme stock. In realtà, se andiamo a guardare con attenzione, già c'era attenzione su GameStop, già iniziava ad esserci. Occhi puntali su GameStop, liquidità che stava entrando. Molto probabilmente qualcuno sapeva, sicuramente qualcuno sapeva, lui in premis, e si stava iniziando a posizionare. Comunque, quello che succede è, post di Rory Kitty, di Kate Gill, e subito esplosione dell'attenzione su GameStop, che inizia a correre in modo importantissimo. Ora, io, quando succede questo, divido sempre in tre fasi, e da qui prendiamo lo spunto per andare a... per farti vedere cosa ho fatto, e raccontarti cosa ho fatto, e cosa ho condiviso in Trading Room. Prima di tutto, la prima fase è quella dove, sostanzialmente, inizia potenzialmente il movimento. Iniziano i rumors, inizia ad esserci una potenzialità. E quella è la fase dei professionisti, ossia, chissà cosa fare, inizia lì a mettersi dentro l'opera d'azione, per esempio long, in questo caso, prima che arrivi l'attenzione mainstream. Nel momento in cui Rory Kitty va a postare, ovviamente, questo meme, e continuerà poi, come ti farò vedere, a postare ogni ora, praticamente, lì iniziano ad arrivare tutti gli amatori, tutti i principianti, che iniziano a sovraffollare l'azione dal punto di vista long. Quindi cosa fai lì? Devi cercare di comunque essere davanti a loro, e quindi cerchi, magari, di entrare in pre-market, dove molti di loro non possono entrare, insomma, cerchi di avere un vantaggio anche in questo senso qui. In open, del secondo giorno, quindi di ieri, ti aspetterai, invece, che tantissimi di quelli che hanno perso il movimento vogliono entrare. E quando tantissimi sono da una parte, tutti insieme, e soprattutto quando questi tantissimi sono degli operatori che si muovono seguendo un meme, direi che è meglio stare dall'altra parte. Quindi, ora ti spiegherò bene cosa ho fatto, nel dettaglio, facendoti vedere, però, per farti capire come le inefficienze, le inefficienze gigantesche che ci sono nel mercato azionario, sono pazzesche, di quanto sia folle stare ad ascoltare persone che ti parlano di mercato efficiente, mercato imbattibile, mercato di qua, mercato di là, e tutte quelle puttanate, che non hanno alcun senso, se non portare acqua al loro mulino decrepito, decadente. Ok? Guarda che tipo di inefficienze ci sono, che si crea il finimondo per un tweet. Ok? Quindi, vediamo cosa ho fatto e ragioniamo insieme su quello che ho fatto e condiviso in Training Room. Come dicevo, questa roba va divisa in più fasi. E c'è sostanzialmente la fase del professionista, la fase di chi è rimasto fuori, quindi aveva visto la cosa, nasce l'occasione, nascere, ma non l'aveva colta, e la fase del totale amatore. Partiamo dall'inizio, partiamo da lunedì 13 maggio, la notte di domenica inizia sostanzialmente tutto questo movimento pazzesco che c'è stato su GameStop, AMC e quant'altro come vedremo, e con il post appunto di Roaring Kitty, e cosa succede? Succede che io subito apro la piattaforma, vedo GameStop tra i top gapper. Ora, io faccio subito 2 più 2, ma questo perché? Perché io ho l'esperienza, ok? Quello che io farò da lì in poi sarà frutto sostanzialmente dell'esperienza che avevo avuto negli anni passati. Ecco perché essere un trader che opera sostanzialmente da più di 10 anni ormai, ma soprattutto che ha vissuto la fase del movimento pazzesco delle mie mie stock che c'è stato nel 2021, mi ha aiutato tantissimo. E ovviamente poi ha aiutato anche Chiarantining Room con me perché poteva leggere ciò che stavo pensando. Ora, cosa succede? Succede che io metto subito insieme i tasselli, vedo GameStop top gapper, vedo il post fatto da Roaring Kitty la domenica per noi, domenica notte, vedo che sta entrando volume, 2 più 2 per me fa sempre 4, vado a guardare lo short float di GameStop che era stata praticamente la miccia che aveva fatto partire tutto il mega squeeze nel 2021, ossia tutta la narrativa per la quale, secondo la quale i fondi stessero shortando GameStop in modo errato, la valutazione era molto più alta, di value, bla 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 bla, è un pump fatto con parole diverse, fu un pump fatto con parole diverse, ma la sostanza è questa. lo short float di GameStop è tornato alto nuovamente e io subito vedo alle 10.10 di mattina, quindi ben prima dell'apertura alle 15.30 del mercato americano, apro la piattaforma e vedo GameStop top gapper, subito mi chiedo ci risiamo? Ora, per chi non se li ricordasse in qualche modo, magari per chi non so, non era ancora nel nostro mondo, nel 2021, questo è quello che è successo nel 2021, c'è uno squeeze epocale, ovviamente qui il prezzo, il GameStop ha avuto uno split, quindi che significa che il prezzo è diventato più basso, ha avuto uno split ordinario, non uno reverse split, uno split, di conseguenza hanno abbassato il numero, il prezzo dell'azione ed hanno aumentato il flottante, ora, guardate però il movimento, c'è una passaggio, sostanzialmente la base è la stessa, la base di crescita, da questa base sui 5 dollari a 120 dollari in qualche giorno, quindi parliamo di uno squeeze epocale, enorme, anche per la quantità di soldi che sono entrati, cosa faccio io quando vedo questo? Entro long, ok? Entro long su GameStop, sui 21.41, ti faccio vedere subito il grafico di quel giorno, così ragioniamo, quindi qui praticamente sono entrato qui su questa, su questa ripartenza, in pratica, questo è pre-market, io aspetto il momento ideale, come poi spiegherò in Trading Room, per entrare in operazione che si rivela essere questo per me, questo frangente qui, ok, faccio i miei acquisti e comincio a prendere profitto poi su un'azione che inizia effettivamente a correre poi, perché guardate cosa fa subito dopo. Inizio a spingere come se non ci fossero domani, fino ad arrivare in opera e andare in alt, praticamente parabolica, ok? Andando qui sui 38, quindi subito ottima operazione, il primo giorno, come vedi qui entro 21.41, 21.65, 21.40, 21.80, 22.20, quindi costruisco sides e poi inizio a prendere profitto man mano che l'operazione torna. Ovviamente poi anche COS e AMC spingono, la cosa interessante in questi movimenti è capire come funzionano. Funzionano sempre allo stesso modo, c'è un'azione che traina tutto il movimento, può essere un movimento di settore, come può essere questo delle mame stock in generale, c'è un'azione che va a trainare il movimento e altre che poi in simpatia iniziano a seguire, ok? Ora, qui vado a escludere ciò che non mi interessa e torniamo a GameStop, sono ancora dentro, qui siamo già alle 15.12, quindi siamo arrivati vicino all'open, sono ancora dentro, sono paziente e questa roba può spingere molto più di quanto penso. E questa qui è una cosa importantissima da tenere a mente, perché quando c'è di mezzo questo tipo di movimenti, su frenesie, su manie, su bolle, su mame stock, veramente bisogna essere pazienti perché l'azione effettivamente può espandere il range in modo molto importante. Ti faccio vedere cosa succede, per esempio, vedi qui tu sei in un range tutto sommato discreto, di spinta, dell'azione, ma a un certo punto ti trovi a avere questo, cioè avere bam 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 con il prezzo che boom espande il range e di conseguenza i tuoi profitti, ok? Il volume scambiato prima dell'apertura, qui erano le 15.26, come puoi vedere, era di 360 milioni. Guarda come qui non siamo ancora nel piano della mania, non era ancora iniziata la mania, ancora nessuno iniziava a parlare di GameStop, GameStop, Rory & Kitty e tornate e quant'altro, ma i professionisti, come il sottoscritto per esempio, sanno già che questo è il momento migliore per comprare, perché? Perché non ci saranno gli occhi di tutti sull'azione, ok? Cioè non ci saranno tutto il done money, tutti quelli che rincorrono, tutti quelli che pensano di poter operare seguendo un meme, ok? Che stanno comprando, ma lo staranno facendo soltanto, lo sarà facendo il denare educato, ok? Chissà quello che sta facendo. Perfetto, apertura, GameStop, alta rialzo, e io prendo profitto, uscendo dall'alta a 27.40, prendo profitto a 28.2, e qui il manuale che scrive Jesus, e il prezzo corre, 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 altro alto, sembra 2021, fuoco, boom, esplode, e io, ok, ho fatto la mia operazione, eccola qui. Vedi come ho sostanzialmente raggruppato tutti i miei ingressi qui, in questo range di prezzo, e dopo non ho dovuto fare altro che scalare in profit. La mia lettura, perché è importante soprattutto il fatto che non ci siano, questo è un concetto importantissimo, fondamentale, forse uno dei più importanti di questo video, perché è importante che non ci siano troppi long lì dentro, ok? Perché? Perché se ci sono troppi long, soprattutto long, di quelli che inseguono, il prezzo potrebbe trovare offerta. Perché? Perché quei long potrebbero iniziare a mettersi a prendere profitto, di conseguenza mettendo offerte, perché se hanno fatto buy devono fare sell, quindi se vorranno prendere il profitto in tanti è troppo presto, comunque in modo emotivo, il prezzo potrebbe trovare una pressione in vendita dei venditori naturali, che sono i compratori, e quindi non andare a far volare il prezzo. Questa qui è la base di tutte le teorie che vi raccontano i vari fenomeni, delle varie stop hunting e quant'altro. Perché? Se l'istituzione, ok, vuole portare il prezzo in alto, non può farlo se ci sono troppi dalla stessa parte, dalla sua stessa parte, quindi long. Perché? Perché potrebbero voler andare a prendere profitto man mano che il prezzo sale e quindi mettendo offerta. Quindi se loro sanno che qui ci sono tanti long, qual è il modo migliore per liberarsene e poi contestualmente crearsi offerta per continuare a comprare e fare questo, bam, buttare tutti fuori. Quindi tutti questi long, ok, di denaro non educato si stoppa, quindi dovrà vendere, quindi mettere offerta. L'istituzionale di turno, famoso istituzionale, mette ulteriore domanda. Avrà fatto due cose in questo modo. Avrà tolto di mezzo tutte le cosiddette mani deboli, ok? Ha avuto offerta per poter continuare a comprare e quando il prezzo invertirà e comincerà a salire non avrà neanche l'offerta di tutti questi mani deboli che sono state buttate fuori. Questo è il concetto di base per cui fare pulizia e creare uno squeeze forte, ok? Motivo per cui anche qui ho aspettato che comunque il prezzo venisse giù e poi in qualche modo, boom, ridesse idea di partire. Poi perché l'ho fatto, quando l'ho fatto e quant'altro, queste sono cose che ho spiegato in Trading Room. Ovviamente poi se vuoi far parte della nostra community e cominciare a fare sul serio, a sfruttare questi movimenti, a seguirci e quant'altro, link in descrizione. Come sempre, contatti Luigi, ti spiega tutto, ti puoi fare un tour completo di tutto quanto. Ora, a cosa siamo arrivati? GameStop in modalità demolizione conti come bei vecchi tempi. Quindi, questo qui è un altro concetto fondamentale, quello del carattere dell'azione. Che significa? Io sono entrato abbastanza confidente di poter vedere una roba del genere su GameStop, ok? Di poter vedere una roba del genere su GameStop, che non è finita qua. Aspettate, andiamo avanti. Vedete che ritorna praticamente sui massimi, ok? Sono entrato abbastanza confidente di poter vedere una roba del genere su GameStop. Perché? Per il carattere dell'azione. Perché come ti ho fatto vedere all'inizio, io sapevo GameStop di cosa era capace. Sapevo GameStop cosa poteva, che tipo di squeeze poteva mettere in atto. Sapevo cosa poteva creare, soprattutto, un post di questo Rory in Kitty. E tutto, ovviamente, quello che ne derivava. Ossia, la ripartenza di queste famose GameStop, di questa dialettica del noi contro loro, fondi cattivi e quant'altro. Sapevo cosa poteva esserci qua dietro, ok? Lo sapevo che poteva espandere il range. Sapevo che poteva trovare tantissimo volume. Sapevo cosa poteva accadere, ma dovevo farlo nel time frame migliore. Che era il primo giorno, ok? Passiamo ora, per esempio, al secondo giorno. Voglio farti vedere come ragionavo del secondo giorno, perché è quello più interessante. Perché cosa succede al secondo giorno? Nel secondo giorno iniziano ad entrare ulteriori fattori. Rory in Kitty fa partire questo movimento con quel post. A questo post di Rory in Kitty si vanno ad attaccare niente un po' di meno che Andrew Tate. Comincia a postare anche lui, a spingere, a cercare di pompare. Questa è la nostra occasione per rifarci dei cattivi del Matrix, bla 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 bla. Port Noi di Barstool Sport, altro mega, 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 mega personaggione del movimento Meme Stock e di comunque i mercati del 2020-2021. Si vanno ad aggiungere altri vari pumper di Twitter, anche personaggi che sono appena stati, diciamo, scagionati per ora da accusi di pump and dump per oltre 120-130 milioni, insomma, diventa un movimento coordinato per andare a buttare attenzione su GameStop. E non solo GameStop, AMC e su Meme Stock in generale. Qui diventa interessante perché? Perché siamo al secondo giorno di movimento. Il secondo giorno di movimento è quello dove abbiamo uno spartiacco, ossia possiamo andare a sfruttare ancora il movimento a rialzo come dei professionisti cercando di stare ancora un po' in anticipo rispetto alla massa, ma dobbiamo stare attenti poi a quando la massa effettivamente arriverà. Ora, cosa ci mette in una situazione di estremo vantaggio rispetto alla massa all'essere preparati, all'essere educati, avere gli strumenti giusti? Come anche, ad esempio, poter far trading e accedere al mercato in pre-market, cosa che tantissimi retail non possono fare o comunque possono fare da una certa ora in poi. Quindi, quello che mi aspettavo, sinceramente, era un pre-market con un livello di pump, di manipolazione enorme, col prezzo che sarebbe sicuramente, avrebbe continuato a spingere in modo importante sicuramente in tutto il pre-market, per poi arrivare alla fase invece dei, diciamo, dei principianti, con invece una grossa pressione in vendita. Perché? Perché si sarebbero messi verosimilmente tutti in acquisto, in open, per cercare di partecipare al movimento e, ovviamente, quando si mettono tutti da una parte, molto probabilmente il prezzo andrà dall'altra. Ora, non è quello che avrei voluto vedere, ti dico la verità, l'ho anche scritto, avrei voluto vedere, in realtà, una continuazione del movimento, non tanto perché io ero dentro, ma un long, ma una continuazione del movimento a rialzo importante per avere ancora più range, ancora più incastrato, insomma, per avere un'occasione short ancora più importante oggi. Ma vediamo cosa succede poi nello specifico. Allora, con il ritorno dell'Mstock, quello proprio che è scritto alle 11.09 di ieri, con il ritorno dell'Mstock, il mio approccio, guarda come ragione in modo semplice, lineare, pulito e veloce, il mio approccio sarà quello di prendere posizione nelle azioni che man mano si uniranno al tema e proveranno a correre. Tradotto, non mi interessa stare a pensare quale azione specifica correrà, a parte ovviamente GameStop AMC, quella è normale, sono le regine dell'Mstock, ma quello che mi interesserà fare sarà vedere quali di queste azioni inizierà a correre insieme a loro, a GameStop AMC, e comprare le forti, quindi tagliare, anzi, partiamo da lì, tagliare quelle deboli, quelle che si riveleranno deboli, e capitalizzare quelle forti. Farò come una sorta di meme-foglio, ok? Un portfolio fatto di meme-stock. Perché? Perché i breakout funzionano quando, a seguito della rottura o in anticipazione della stessa, entrano tanti, tanti dollari, e la domanda è costante, ok? Nelle meme-stock questo è una costante, ok? Questa è una costanza, vabbè, qui in piccolo refuso, questa è una costante, ok? Questo perché le meme-stock vivono di questo, ossia, si sta muovendo, è ripartita, ha rotto X, hanno postato il meme Y, non so, assurdo, hanno postato su Reddit, compriamo, 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 quindi, più l'azione va su, e più entrano soldi, più entra volume, più il movimento si auto-alimenterà, ok? Sulla base della domanda che è entrata, che ne attrarrà altra, e così dicendo. Io devo essere bravo a capitalizzare questa situazione, questo movimento, questi soldi che entrano nel momento giusto. Qui ovviamente faccio una carrellata di grafici, insomma, che puoi vedere in Trading Room. Dopodiché, cosa ho fatto? Semplicemente, sono andato a fare quello che ti ho detto, e ti faccio vedere un pochino come è andata la giornata, senza andare troppo nel dettaglio. Qui ovviamente, vedete io ragazzi, vado a, proprio, declinare tutto quello che facevo, vedi check delle sette, tutto quello che succedeva, GameStop sui massimi, AMC ancora forte, KOS recupera, BB, bla 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 bla, vado a, proprio, pezzo per pezzo, vado a guidarli su tutto quello che stavo facendo, che avrei fatto, e che avrei voluto fare, e noi ora saltiamo direttamente al riepilogo, di tutte le operazioni che ho fatto, sono tutte long, tranne uno short su AMC, ed ecco qui, allora, andiamo, 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 vediamo dove siamo, allora, tanta tanta roba, quindi cerchiamo di capire, no, qui ragazzi, aspettate, qui non eravamo neanche addirittura le otto, quindi, è stata una giornata abbastanza, abbastanza intensa, arriviamo a, ti ho spiegato un pochino tutta la premessa, arriviamo alla fine, ecco qui, allora, vediamo il long su AMC, come vedi sono entrato in premarket, long entro entro, scalo, profit pazzesco, bellissimo, movimento parabolico fantastico, mi stoppo, col resto, ancora in profit, in open, e poi shorto, ok, vado short, azione, operazione che avevo tra l'altro, chiamato assolutamente, 15.53, vedete, la mia idea di shortare AMC, su una spinta, verso 10.11, qualora GM dovesse confermare la sua debolezza, questa è una dinamica che, non è questa la sete dove devo spiegarla, però, vedi come ho shortato qui, praticamente, sui 10.11, in questo range, ho shortato AMC, un, due, tre, mi sono ricoperto, ti farò vedere poi dopo come finisce lo short, anzi faccio subito, così chiudiamo la partita, eccolo qui, ecco qui lo short, quindi short su AMC, e mi ricopro praticamente qui, sui 6.30, 6.40 circa, molto, molto, molto bene, andiamo a vedere poi su GameStop, solo long, anche qui entrato, vedete che è praticamente identico a AMC, come ingresso, come esito, identico, anche qui, stop in profit, in open, perfetto, ho fatto una lettura perfetta, comprare le azioni forti, tagliare quelle deboli, non ho dovuto tagliare veramente poche, prendere il profitto, shortare poi in open, nel momento in cui, l'azione, dovesse effettivamente dirmi, che stanno punendo chi è rincorso, come per esempio su AMC, lineare, cioè niente strumentini, niente supercazzoli, niente, eh ma l'SMP, non si può battere, se ste minchiali, ragazzi, processo, esperienza, e essere un professionista, formato, educato, e che sa quello che sta facendo, ok? Olo, per esempio, esempio di tagliare quelle deboli, e tenere quelle forti, entro su Olo, rincorrendo, cioè, non mi interessa, qui compro alto, per vendere ancora più in alto, non mi interessa, ok? Può esplodere fino a 10 Olo, compro, quando diventa debole, la taglio, ritorna forte, rientro, guardate, questo è importante, compro, no come, che vi insegnano a operare senza, senza stop loss, sperando che ritorna, tengo l'operazione aperta per un anno, sperando che va a zero, che torna a zero, no, compro, è debole, la taglio, via, ok? Via, tagliata, ritorna forte, rientro, prendo profitto, ok? Qui non ho fatto granché, qui ho zerato la perdita, perché avrei avuto bisogno di vederla molto più in alto per far profitto, ma non mi interessa, a zerare una perdita, qui vuol dire non togliere margine agli altri profit, quindi molto, molto, molto bene, KOSS, qui mi aspettavo molto di più, sinceramente, comunque entro, e, discreto profit, discreto profit, ma lascia, a parte un dollaro sul tavolo, di profitto, ma amen, mi aspettavo molto di più, ma bene anche qui, BB, per esempio, altro esempio, compro, non mi interessa dove, non mi interessa dove relativamente, però nel senso, compro, una rottura sui quattro, prova qui, la tenevo fino almeno a sotto 3,50, l'avrei tagliata, l'avrei definita debole, non lo fa, prova a ritornare forte, ritorna debole, la taglio a break even, senza nessun tipo di domanda, e infatti guarda come veniamo giù dopo, quindi ho fatto stra, stra, stra bene, SPVR, tutte queste qua, attenzione, tutte queste sono tutte, M&M Stock, MC, GME, Olo, è una cinese che ha fatto movimenti pazzeschi, KSS, BB, sempre per discorso, dei movimenti pazzeschi, voglio farti vedere una roba, della personalità dell'azione, del carattere dell'azione, guardate Olo, che cosa è stato in grado di fare, per più volte, così capite perché sono andato long, guardate che i movimenti è in grado di fare Olo, così per capirci insomma, ok, da 4 dollari qualcosa a 100 dollari insomma, quindi ecco perché Olo era tra queste, tutte le altre BB, Blackberry, è una M&M Stock, Koss è una M&M Stock, proprio che facevano parte del movimento M&M Stock del 2021, SPVR, SPVR è un'azione con short float del 95%, questo l'avevo scritto a tempo debito, appena l'ho vista, vediamo se la trovo, eccola qui, alle 12.56, quindi ben prima dell'apertura, SPVR ha un 95% di short float, eccolo qua, 95% di short float, cos'è lo short float? è sostanzialmente la quantità di flottante detenuta in vendita, quindi da short seller, quindi un'azione che rientrava nella dialettica del M&M Stock, ossia di quelle azioni dove appunto avresti potuto vedere uno squeeze, uno squeeze, e non cercare di shortare i venditori allo scoperto, anche questa è stata una discreta operazione direi, ecco qui, qui non perdo tempo, appena vedo che prova a ripartire a diventare forte, compro, prendo profitto, la taglio, ricompro, quando vedo che rispinge, prendo profitto, ricompro, più in alto, rivendo più in alto, cioè, allora, l'ho detto all'inizio, la mia idea era, comprare, monetizzare, far cassa sulle azioni, forti tagliare quelle deboli, finché SPVR, che si muove insieme al M&M Stock, ha uno short float gigantesco, è potenzialmente una delle azioni che può spingere, io quando la vedo forte, compro, quando inizio a vederla deboli, come vedi, non compro più, semplicissimo, ok? Semplicissimo, BBI, idem, anche BBI aveva un short float molto alto, provo a comprarla mentre spinge, questo è un breakout daily, e mi taglio una ricca perdita, quando non funziona, ok? Questa è una di quelle giornate, questa è una di quelle giornate, dove devi rispondere presente, praticamente, guardiamo, leviamo il 13, che è un'operazione che sto portando in swing, non c'entra niente con queste, le operazioni del 14 di ieri sono state, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con una perdita, 2 perdite, mettiamo, più o meno, perché mettiamo 2, 3 perdite, ok? 3 perdite, molto, 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 molto più piccole, dei profitti capitalizzati, nei long, ma anche sullo short su MC, che si è concluso, come ti ho fatto vedere, in modo molto, molto, molto interessante, eccolo qua, guardate anche questo, insomma, long discretamente, discretamente bello, quindi, per concludere, chi vi racconta che le inefficienze non esistono, che i mercati sono efficienti, che non si possono battere qua e là, vi racconta una marea di puttanate ragazzi, che è tutta una questione di quanto sei educato, quanto sei formato, in che mercato operi, quindi il mercato dove ci sono queste inefficienze, ragazzi, allora, un nostro studente, ha scritto un post, l'altro giorno, in cui dice, alla teoria, alla faccia della teoria dei mercati efficienti, qui basta un tweet, per scatenare l'inferno, per farti capire, ma cos'è questo inferno? Non è l'inferno, è il paradiso, perché questo tweet, pensa anche a Andrew Tate, si è messo a buttare, a buttare dumb money dentro il mercato, questo, questa liquidità, questi soldi che entrano, soldi non educati, di persone che investono, seguendo dei meme, per noi sono una manna dal cielo, perché sapremo che alla fine della fiera, loro faranno la scelta sbagliata, sì, qualcuno farà dei mega profitti, sì, qualcuno, sì, va bene, ma la maggior, il 99% di loro, perderà tutto, ok? E qui, non dobbiamo fare, non è un discorso di essere cinici, vogliamo giocare, vogliamo giocare a questo gioco, dobbiamo essere più preparati degli altri, più pronti, più pronti soprattutto a sfruttare queste occasioni, come lo si fa? Lo si fa preparandosi, smettendo di credere alle idiozie che vi raccontano, portando, altra volta ve lo ripeto, acqua al loro mulino fatiscente, ma piuttosto concentrandosi sul capire, cosa può essere prevedibile, anzi, capendo come un mercato del genere, mercato azionario in generale, ma questo è un mercato small cap, praticamente, vedete che ci sono questi pump and dump, questi movimenti pazzeschi, non è solo un mercato con un vantaggio gigantesco, perché può raccogliere informazioni, in modo assolutamente profondo ed enorme, ma è anche uno dei mercati più prevedibili di tutti, è uno dei mercati con una simmetria tra rischio e rendimento, gigantesca, a favore del rendimento, quindi, la scelta è soltanto se, continuare a, cercare di sopravvivere, o cercare di fare la seconda entrata sui mercati, che è una cazzata, fa ridere, non è, i mercati non sono il posto dove fare la seconda entrata, la seconda entrata la puoi fare andando a fare le consegne per globo, non sui mercati, ok, perché così funziona la vita, non le dipendono per il culo, quindi, o si capisce, e si comincia invece a cercare di capire come poter sfruttare queste situazioni qui, e magari puoi star fermo per un mese, ok, due spiccioli li abbiamo alzati, come hai visto, star fermo per un mese, aspettare la prossima, grossa occasione, oppure si finisce come tutti, e si finisce asfaltati, da chissà quello che sta facendo, e per concludere, come sempre, link in descrizione, contatta Luigi, prenota la tua demo totale, completa, della nostra Academy, per vedere quello che facciamo da dentro, e vedrai che capirai ancora di più quello di cui ti sto parlando.